Era scampato al terribile incidente nella galleria di Piaganini cinque anni fa e morto per un malore nella sua abitazione di Cronialeto dopo aver rifiutato le cure del pronto soccorso il giorno prima e il consiglio del suo medico di andare in ospedale la notte successiva. A nulla purtroppo sono valsi anche i tentativi del sindaco di Cronialeto Giuseppe D'Alonso di rianimarlo utilizzando un defibrillatore. Il 29enne Andrzej Zglaze di origine polacca conosciuto in paese come Andrea, trapiantato da anni e nerito di Cronialeto è morto a 24 ore da quando ha deciso di rilasciare il pronto soccorso dove era arrivato perché vomitava. Un brutto periodo, una settimana giustamente nera che inizia da lunedì con un funerale qui nel territorio di una persona colpita da malore seppur avanti in età. Poi arriva la notizia che a seguito delle intemperie nel Lazio, a Roma, insomma un ragazzo che cade e muore, età giovanissima, 14 anni, originario del mio territorio, tant'è che verrà riportato qui per la tumulazione. E poi ieri, nella giornata di ieri, questo evento, insomma 29 anni, morire per un non nulla diventa difficile. Poi toccare con mano una persona che insomma la vedi quasi come un familiare, poiché era noto, era conosciutissimo, Andrea un bravissimo ragazzo, gli volevano bene in tanti, ha subito già la sofferenza dell'incidente di qualche tempo fa, non meritava questa conclusione di vita. Le va di raccontare un po' la storia, visto che lei è intervenuto in prima persona? I genitori sono venuti in comune chiedendo aiuto perché il ragazzo stava male e quindi la necessità di un'ambulanza, mi sono subito attivato per chiamare il 118, rintracciare la dottoressa, poi nell'immediatezza è arrivata la notizia che forse il ragazzo era morto, ho chiamato le ragazze che insomma fanno anche parte della Croce Bianca, abbiamo preso un defibrillatore, siamo corsi sul posto, ma insomma già era tardi, abbiamo attaccato le piastre, ma non scaricava, abbiamo fatto il massaggio cardiaco, insomma il ragazzo non c'era più. Una comunità, il lutto comunque vi si è considerato questi eventi? Beh, oltre che il lutto, noi lavoriamo, combattiamo molto con questo cancro dell'abbandono del territorio e quando viene così in maniera naturale e ingiustificata, insomma fa male, fa male.